Il rapporto non solo della Caritas di Cesano, ma anche della Caritas Italiana, noi abbiamo collaborato con l'Istat in due occasioni, sia per il licenzimento di senza limone, che è stato comunque, pur risultato abbastanza positivo, sono stati presentati ultimamente dati a Milano, ma anche per quanto riguarda quello che diceva prima la dottorista, cioè i sentimenti degli stranieri. È stato un lavoro molto interessante, perché comunque, insomma, anche lì moltissimi cambiano la residenza, cambiano il licito, quindi è stato un lavoraggio molto difficile, però i risultati dovrebbero essere a giorno presentati. È stata una bellissima della voce. Ora aspettiamo qui, perché ho letto un po' dimensionale, e poi di questo video mi vedi più.